Buonasera a tutti e benvenuti al recap, al riassunto di quella che è stata la giornata di borsa di oggi. Allora, ho preferito partire dalla conferma della centratura che vi avevo già dato, pulita in modo che possiate vederla tranquillamente, con un nuovo T inverso partito da questo massimo e che sta sviluppandosi appunto con una bella spinta, e la partenza, ancora da confermare ma quasi certa, di un nuovo T settimanale, preferisco già fare così e metterci un bel punto di domanda, da questo minimo, per cui da qui è partito l'ottavo T-3, come ipotizzato questa mattina, si è chiuso il settimanale qui con un bel ritracciamento perché era partito qua sotto, e successivamente sta partendo un nuovo T settimanale. Quindi sta partendo un secondo T settimanale, un secondo ciclo settimanale. E quindi, che cosa abbiamo fatto noi durante la giornata? Come ci siamo amossi? Con le persone che mi dedicano più tempo, che appartengono a un gruppo piuttosto che a un altro, condivido determinate ipotesi di trade, ok? Per cui, cosa abbiamo fatto? Dato che qui abbiamo avuto un minimo inferiore a questo e poi c'è stata una forte sparata, e se andiamo a vederci poi la giornata di oggi, abbiamo aperto già in gap up, poi finta magnifica con ups di Williams fatto e poi ripartenza verso l'alto, mi sono detto, ok, va bene. Qui abbiamo già violato degli swing che mi dicono che sta partendo un qualche cosa di diverso dal settimanale precedente, che è arrivato oltretutto alla durata media di 8T-3, e quindi può essersi tranquillamente chiuso qua. Che cosa facciamo? Aspettiamo di avere una piccola conferma e poi abbiamo fatto una cosa estremamente semplice. Quando c'è stata una chiusura microscopica possibile di T settimanale, con questo minimo a 10.589, leggermente più alto di questo a 10.588, ho dato in violazione dei 10.623 il long. Cosa è successo? Siamo andati, apriamo un pochino il grafico così che lo si possa vedere, in violazione dei 10.623 siamo andati long, e ci siamo portati a casa rapidamente, fino ai 679, ok, oltre 50 tick successivamente c'è stato un ritracciamento, e siamo andati però anche all'altro target che avevo dato per la giornata, ovvero avevo segnalato i 10.743-45, qualcosa del genere, e abbiamo fatto 737, quindi mancato tra virgolette il target per 7 tick su 10.000 rotti. Tutto è andato bene, giusto? La domanda però, prima della chiusura, è stata, ok, abbiamo rispettato finalmente la regola della Kumo, quella di cui avevo parlato peraltro in un intervento su Bitcoin, ok, e l'abbiamo traforata e salita, dopo che una volta si era invece ritornati rapidamente giù con due candele rosse. possibilità che sia partito da qui, dopo la 25esima barra, un secondo timer 3, alcune ci sono, nella realtà dei fatti, propenderei persino una chiusura qui, in cui abbiamo avuto, dunque, 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 10.657 a 10.656, notate che è sempre un tick di differenza, teoricamente darei quasi la partenza qui, quindi lo sposto qua, e lo metto sotto la candela delle 16.30, e metto così un'alternativa, e mi ricordo le due cose, ok? In questo caso, abbiamo già avuto una bella spinta per quasi un T-5 completo, anzi, in realtà, su DAX un T-5 completo, ed essendo arrivati molto vicini alla media mobile a 200 periodi, con quella 50 che sta provando a tornare in Golden Cross, è possibile che magari ci sia prima una chiusura di T-5, e poi, di nuovo, eventualmente, in violazione di questo massimo, di questo swing di massimo, e ne abbiamo già violati di swing, da quando siamo andati a fare questo minimo, parecchi, anche questo è fondamentale, valuteremo altre operazioni long, perché? Perché qualsiasi cosa stia succedendo da qui, se anche appunto, si tratta di un nuovo mensile, ma si tratta anche soltanto di un altro T settimanale, avremo spinta, perlomeno, per un T-2, minimo, 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 e in partenza, eventualmente, del terzo T-3, e quindi non siamo ancora al terzo T-3. Il rialzo va seguito, la tendenza va seguita, guardate come velocemente chiudono quello che devono chiudere anche eventuali finte, successivamente ritornano a salire, la tendenza è questa, e noi l'abbiamo sfruttata bene anche oggi. Questo per quanto riguarda DAX, tenete conto che, peraltro, anche il terzo T-3 inverso, potrebbe essersi chiuso ed essere stato ribassista, ovvero rialzista, di indice a 29 candele. Ok? Questo per quanto riguarda il DAX. Per quanto riguarda invece il Fuzzi Nib, abbiamo che qui la situazione è leggermente diversa, come al solito, la incasinano sempre un po'. Ok? Chiuso l'ottavo T-3, su questo minimo, ha 17.074 punti rispetto agli 85, quindi con 11 ticchi in meno, questo minimo, hanno fatto, che cosa? Una bella schifezza. Ovvero, si sono messi a fare un raccordo, eccolo qua, da questo minimo qua di venerdì a questo minimo qua, e solo successivamente sono partiti con un nuovo T-3. quindi, in realtà, il T-3 e l'eventuale nuovo settimanale è partito dalle 11 di questa mattina. Non siamo già in secondo T-3 avanzato possibile come su DAX, ma abbiamo un ritardo dovuto proprio a questo raccordo. Questo, tra l'altro, ci sta dicendo che non è soltanto partito però a un nuovo T-3, ma anche qualche cosina di più, perlomeno, un T-2 come tempistica, perché siamo arrivati già oltre la durata di un T-3 che perlomeno lancerebbe un T-1 persino. Per cui, anche in questo caso, i target possono essere interessanti e possono raggiungere non soltanto il livello superiore della Kumo, ma anche la media mobile a 50 periodi. E potendo utilizzare il long, anche in questo caso, su Fuzzimib, non soltanto su DAX, essendo limitati soltanto qui per lo short, ancora meglio come cosa. Per cui, attenzione, se di indice possiamo partire con il nuovo settimanale da questo minimo, dopo il raccordo, avremo ancora spinta perlomeno per arrivare a 17.539, quindi a dove passerà domani la media mobile a 200 periodi. Successivamente, attenzione perché se qui fosse partito appunto un terzo T-3 inverso come tenso e non l'ho ancora segnato, dalle, potremmo farlo partire nella realtà dei fatti, dalle 10.30, non solo già saremo vincolati a ribasso di inverso e quindi a rialzo di indice, ma avremo ancora tanta bella spinta perché dovremmo arrivare a chiudere a chiudere perlomeno un T-1 prima di poi iniziare a far partire un secondo T-1 inverso. D'accordo? Mi segno soltanto 10.30 qua. Questo è quanto per cui se l'analisi vi è piaciuta mettete un like, viceversa non mi dovete nulla. Mi auguro che questo genere di analisi con le riprove effettive di trader che sono in gain vi facciano pensare alla solita domanda di fronte alla quale vi pongo sempre. Volete diventare indipendenti attraverso una formazione fatta in un certo modo e potervi muovere nonostante notizie devastanti come un PIL a meno 4.80 negli Stati Uniti e stiamo aggiornando i massimi quindi con la solita dimostrazione che le notizie non servono per fare trading oppure volete continuare a fare la carta da parati e affidarvi a qualsiasi guru che probabilmente magari a volte c'ha zecca a volte no. Tanti supposti guru hanno fatto dei macro errori da fine febbraio in avanti noi eravamo short quando loro provavano ad andare long queste cose ricordiamocene non perdiamo la memoria di ciò che è successo e non perdiamoci la memoria di quello che guadagniamo oltre ciò oltre quello di cui perdiamo perché se non mettiamo le perdite non potremo mai crescere imparando dagli errori ancora buona serata a tutti di Grazie.